Ai, non so se sei scelto. Non è entrante. Oh, trappo, se non è andato a fermarlo. Se non puoi fare la mano, non puoi fare la mano. No, però, se non è sempre tolto, non puoi fare il male. Non è un gioco. Sì, non puoi fare la mano. Sì, non puoi fare la mano. Grazie